io trovo che girare questi video sia sempre più difficile anche perché ormai ho questo puzzo di pomodoro che mi invade e pervade aspetta, c'è la puzza che fai un cazzo tu ce l'hai la quintina su? non ce l'ho perché devo rimettere di fuoco allora scusa entrami tu più in ah! stai qua, stai qua però falsiamo un po' ahahahah 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 allora, il tutorial su come non morire a causa del sugo indossare intanto una maglietta termica e poi delle buste che succede? aspetti, le do una mano ahahahah nooo ahahahah ahahah ahahah figlio mio clone morto a terra manghietta rossa non c'è non c'è non c'è non c'è ci deve essere camera dall'alto proprio qui con le mie mani che entrano prendo il barattolo, pennello, tutto 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 e poi inizio a fare così e poi si vede il totale di me che dipingo la mia maglietta io sto girando quando volete che schifo che smart che scasi sciolciuta questo gli aiuterà a concentrarti, non è vero? nooo ah ahahahahahah ahahahah unlu Вот Grazie a tutti.